Il Presidente della Regione Toscana Eugenio Gianni insieme al Presidente del Consiglio Regionale Antonio Mazzeo e al Consigliere Marco Landi volerà negli Stati Uniti a Washington DC per ricevere il premio conferito dal NIAF National Italia America Foundation alla Toscana come Regione d'Onore 2022. Il NIAF è l'associazione di italo-americani che sappiamo è più rappresentativa negli Stati Uniti e svolge una funzione importantissima di collegamento con le comunità in tutti gli Stati Uniti. Quest'anno ha deciso di definire la regione dell'anno fra le 20 regioni italiane proprio la Toscana e quindi è un momento che per noi è di grande onore. Ogni anno la fondazione che annovera tra i suoi membri anche il virologo Anthony Fauci e la Presidente della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti Nancy Pelosi sceglie una regione d'Italia da celebrare promuovendone la cultura, gli affari e il turismo. È qualcosa che noi abbiamo voluto cogliere al volo per essere presenti e per poter dare la nostra testimonianza del grande legame che è l'Italia ma in questo caso la Toscana ha con tutti coloro che italiani hanno lasciato il segno nei cinque continenti. Sappiamo che ci sono delle regioni della Toscana, penso alla Lucchesia ma anche al Senese che hanno avuto nel corso degli anni una particolare predisposizione per l'emigrazione e spesso gli italiani americani hanno delle posizioni di grande importanza nei rispettivi paesi dall'Australia agli Stati Uniti, dall'America Latina a quello che sono i paesi di tutto il mondo. Durante il viaggio in America il Presidente Gianni avrà un fitto programma di incontri con esponenti del panorama culturale ed economico e con le comunità italo-americane oltre a iniziative di carattere istituzionale con rappresentanti del governo, del congresso americano e con l'ambasciata italiana per intensificare i rapporti tra gli Stati Uniti e la nostra regione. La visita si concluderà sabato 29 ottobre con il Gran Galà del Niaf durante il quale sarà premiata la Toscana.